Preghiera di San Giovanni Paolo II a San Pio da Pietralcina. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Umile e amato Padre Pio, insegna anche a noi ti preghiamo l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare il mistero del Suo Regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che il Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente, nei poveri e nei sofferenti, il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova. E se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tenera devozione a Maria, Madre di Gesù e nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno, verso la Patria Beata, dove speriamo di giungere anche noi, per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Pio da Pietrelcina prega per noi.